Mezzi e container danneggiati, incubo racket sulla Lioni Grotta Minarda, una delle opere pubbliche più sofferte di Irpinia. L'assalto nel cantiere di Frigento, in località La Quarta, con 11 mezzi e tre container vandalizzati. Al momento i carabinieri di Mirabella e Clano non escludono alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico ad opera di Balordi, ma anche di un'intimidazione. Disorientato ed incredulo Filippo D'Ambrosio, commissario ad acta per i lavori di completamento della Lioni Grotta. Non ricordo che sia mai capitato nulla del genere nei nostri cantieri in Irpinia. È la prima volta e per questo sono molto preoccupato. Poi aggiunge, rispetto alla vigilanza del cantiere, il protocollo non prevede l'obbligatorietà di una custodia notturna. Certo sarebbe un deterrente per atti delinquenziali, ma è pure evidente che parliamo di un cantiere lungo chilometri. Le preoccupazioni di D'Ambrosio sono condivise dal sindaco di Grotta Minarda, Angelo Cobino. Quando succedono di questi episodi c'è sempre una grandissima preoccupazione. Quindi non posso che essere preoccupato anche io, le nostre comunità, nella loro interezza. Sul territorio c'erano state avvisaglie di intimidazioni, di minacce nei confronti di queste ditte? A me non risulta e non lo so. Io non oso addentrarmi perché non ho elementi per potermi esprimere in un modo o in un altro. Bisogna andare avanti. Viviamo una grossa scommessa. Le ali al sud, fare in modo che il sud possa decollare come le ali. Le ali nel senso della realtà al sud e anche con una piccola g, legali al sud.